E' il professor Roberto Di Maria, 39 anni, già impegnato in attività legate anche all'amministrazione dei beni confiscati, il nuovo amministratore unico della cooperativa Lampedusa Accoglienza e dell'intero sistema delle cooperative che si occupano dei migranti a Lampedusa. Una personalità esterna al mondo delle cooperative, un tecnico anche se estremamente vicino alle stesse cooperative, chiamato a rimettere ordine nel settore dopo lo scandalo che ha fatto seguito alla divulgazione del video del Tg2 sugli immigrati sterilizzati a Lampedusa, che ha provocato grande indignazione. La nuova amministrazione ha come primo punto sicuramente un contatto con il Ministero degli Interni per valutare la posizione del Ministro rispetto all'ipotesi di risoluzione unilaterale del contratto. Posto ciò, a livello invece di organizzazione interna, l'amministratore unico procederà all'analisi dello statuto societario, alla sua riscrittura parziale con l'elaborazione naturalmente non individuale ma collegiale, del codice etico, mutuando i principi già contenuti nello statuto della Lega delle cooperative siciliana. La riorganizzazione societaria e quindi l'azzeramento del Consiglio di amministrazione con la nomina dell'amministratore unico non coincide ovviamente con il licenziamento degli operatori che sul territorio di Lampedusa fino ad oggi hanno lavorato. Io non sono un avvocato litigioso, preferisco risolvere le questioni sempre in via stragiudiziale. Dovranno essere tutelate eventualmente le ragioni dei dipendenti della società, questo sicuramente sì. Non sia mai che il Ministero degli Interni adotti un provvedimento illegittimo, sarebbe davvero paradossale. La situazione del centro accoglienza di Lampedusa è pessima comunque da un punto di vista infrastrutturale, a prescindere da ciò che è successo, denuncia Elio San Filippo, presidente della Lega delle cooperative. E questo lo diciamo da anni, ci sono fonogrammi fin dal 2008 a tutti gli organismi competenti. Ascoltiamolo. Le cooperative hanno denunciato attraverso fonogrammi, fax, email, la grave situazione di questo centro, più volte distrutto e mai ripristinato, che ha reso impossibile, degradante la condizione di vita dei migranti, ma quasi impossibile agli operatori di poter rispettare meglio il vostro servizio.